Ma salve, siamo nuovamente qui. Ma prima una cosa stupidissima. Ma salve, siamo nuovamente qui. E io non ho parlato, però... Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Ma salve, siamo nuovamente qui. Nel settimo episodio? Sì, nel settimo episodio, porcazzo. Allora, scusate il francesismo, ma... Nuovamente qui, sul nuovo video della serie da zero. Calmo, calmo, zitto. Me del passato. Allora. Il 17 luglio, evento grandissimo, perché? Tre anni The Tiger Ghost. Non so se rendo tutti che non gli davano uno spiccio, ma in realtà stiamo ancora qui e la gente vuole continuare a giocare. Quindi vi invito a contattarmi su Instagram se volete unirmi. Unirmi. Unirvi a me. Piccola premessa. Tre anni che... Ci stanno The Tiger Ghost. Tre episodi che saltano. Vengono tagliate, riassunti in questo. Quindi questo video sarà diverso dal solito. È un post commentato dei tre episodi. Sceglierò io poi quale pubblico nell'uncut. E poi si riparte direttamente dal sesto, che in realtà sarebbe stato l'ottavo. Detto ciò, vi dico un'altra cosa importantissima. Che, giusto che nell'ultimo periodo sono mancato leggermente da Twitch, e ci stanno pure sti eventi succosi appositi per Tiger Ghost, che poi vi spiegherò meglio, prossimamente, magari anche in live. Faccio due cose grosse. Vi do la possibilità di vincere durante le mie live su Twitch 50DR. Perché? Perché me va di far sta stronzata. Quindi, vi invito a seguirle, anche se non sono di Medin. Quindi io nel dubbio vi farò vincere DR. Così magari vi affezionate a me anche su altri giochi. Ma questa è una cosa che non succederà. Ultima cosa da dire, non meno importante, che in questo video io mi sono concentrato, anzi in queste tre ore, mi sono concentrato nel farmare le carte. Quindi non è stato particolarmente divertente. Era quasi totalmente AFK. Però, se poteva fare, l'ho voluto fare per provare. Vi vado a spiegare cosa ho fatto e tutto quanto. Cosa importante da dire, il prossimo episodio, quindi il sesto o ottavo, non uscirà fin quando non arrivo a 10 like o 200 visualizzazioni. Quindi, sapete quello che dovete fare. Quindi andiamo al video. Ok, ci siamo. Siamo sulla registrazione, quindi a un posto commentato, come vi ho già detto. Non c'è il mio faccione, quello è il vecchio faccione. Creo il ninja e lo chiamo 1H7. Rimetto che, come al solito, ci saranno sempre i PG in autocaccia che cercano dei livelli al 40. E farò la gilda attiva, quindi se volete unirvi fatevi gialli, così giocherete con me. Momentaneamente sono al 15 i due PG. E, come al solito, gli prendo Uriel, gli ho passato i soldi per prendere la faredra al ninja che andrà in autocaccia. E sto a fare un altro set di equip per il ninja che andrà in autocaccia e resterà in villo 1, questo per fare i set di carte. Preparo la roba, quindi coppo tutto a più 6, io almeno ci provo. Fatto tutto a più 6, passo i soldi che poi passerò sul ninja nuovo. Insomma, 1H7. Mi vengo a prendere le cose, vado in villo 2 con gli altri e cerco uno spot buono in villo 1 per lasciare il PG in autocaccia. Fatto, faccio questa cosa per 3 ore all'incirca. In realtà un po' meno perché ho creato, ho fatto la roba, ho fatto sistemato e quindi ho perso un po' di tempo. In questo stesso video ci ho fatto la registrazione per non faccio più errori. Quindi nel dubbio, se volete condividere altri errori fatti, può essere un buon momento. Schifo brutalmente, credevo di aver già finito, però io farei di questo onettamente. I PG hanno fatto, stavano al 16, al 15, stanno al 19 e al 18. E lo stronzo, ah, per non parlare del fatto che mi sono sbagliato, non volendo, invece di startare la registrazione, ho startato la live e oggi che ho registrato la prima live, dopo parecchio tempo che non giocavo sulla serie da zero e non andavo in live, ho fatto la registrazione invece che la live. Quando uno è stronzo, ecco, il risultato, fermi tutti, il risultato della prima ora o poco meno di autocaccia Questo se po' allevare La prima ora di autocaccia è stato, quindi 24 più 24 più 1, quindi so quasi la precisione di 50 carte Perché so 49, quindi direi di saltare al secondo, alla seconda ora E vediamo un po', riporto i primi e i PG che stanno a Expa in Vilo 1 E li rimetto già in autocaccia, quindi non credo di avergli preso Uriel Sì, io ho preso Uriel Questo non ha trovato lo spot e ha perso ulteriore tempo Poi l'ho piazzato qua all'uscita Nord Insieme a qualcun altro, poi ho cambiato qualche altro CH Comunque 18 e 19 stavano i PG E con un'ora da laid, zitti zitti, hanno fatto il 21 e il 20 E il PG Strunz 1 set ha fatto la bellezza di... quante carte? Non ho visto Ha fatto 23 e 24 Perché una ce l'aveva dall'ora precedente Quindi comunque intorno alle 45 carte l'ora No, forse d'è più, 48 carte l'ora all'incirca si fanno Carta in più, carta in meno Invece in questo c'è la webcam che a differenza di quello di prima non c'era Faccio la stessa roba, riporto in Vilo 1 quelli al 20 e al 21 Mi metto subito in uno spot buono Infatti in questo giro, a questo giro Farò la bellezza di... quante carte? Vediamo dov'è, dov'è Dov'è? Ho fatto... aspetta, fermi tutti Dov'era? Ho fatto 6 set pronti Quindi sono la bellezza di altri 24 e 24 Più 5 carte Quindi sono andato oltre le 50 Perché stavamo a 48 con i due set Più altri le 53 Che non è male Perché mi sono messo in un punto E mi sono sparato tutte le... Tutta l'ora quasi completa in questo spot Quindi abbiamo riassunto estremamente veloci queste tre live Direi che abbiamo detto parecchio E abbiamo fatto la premessa Abbiamo detto che se non ci sono queste visual e questi like Io purtroppo non vi porterò più la serie Perché sono uno stronzo ovviamente se scherza Sapete quello che dovete fare Ma cosa più importante di tutte E i PG hanno fatto il 22 Entrambi il 22 Che non l'ho detto Ma ancora più importante Ho deciso la classe che farò E porterò avanti Ma giocherò come mi piace a me E giocherò attivo con la gilda Perché voglio fare questa cosa Quindi vi ho detto una cosa Che scoprirete nel prossimo episodio Quindi che personaggio farò E che come... Che personaggio farò E vi dico pure che farò una gilda E giocherò con i membri della gilda E non giocherò per tryhardare Per migliorare solo me Ma per divertirmi Giocare con voi Perché mi sono rotto un po' il cazzo Detto ciò È stato un piacere E ci si becca Al prossimo video Ciao cari Ciao cari Ciao cari Ciao cari Ciao cari